Ciao ragazze, benvenute su Mondo Cosmetic, oggi primo video dedicato a scopriamo insieme i prodotti della Yves Rocher, oggi in particolare scopriamo un prodotto per la cura delle mani, parliamo dell'esfoliante all'arnica bio della Yves Rocher, è un prodotto che si usa per la cura delle mani e all'interno c'è l'arnica bio e gli acheni della fragola che servono ad esfoliare in maniera naturale, gli acheni della fragola sono quei semi piccolini della fragola, questo cosa significa? Che all'interno essendoci gli acheni della fragola non c'è stato bisogno di mettere i microsferi di polietilene che sarebbe la plastica, per cui si ottiene un gommage molto più delicato e soprattutto molto più naturale, la consistenza di questo prodotto è appunto una texture olio gel, ve la faccio vedere, eccola qui, ha una consistenza così, vedete? Olio gel, perché è stata scelta questo tipo di consistenza? Perché l'olio gel aiuta non solo ad idratare la pelle delle mani quando la andate a stendere, ma anche perché proprio il tipo di texture riesce a essere stesa bene su tutta la superficie, quindi su tutta la mano, non solo renderà l'applicazione degli acheni della fragola, quindi questa esfolazione naturale, la renderà molto più delicata, proprio perché questa texture oleosa aiuta e facilita il movimento degli acheni della fragola, quindi si otterrà questo trattamento molto delicato, ma che renderà le vostre mani molto morbide, molto soffici e altamente idratate, ovviamente come si utilizza? Mano asciutta, si prende il prodotto, si stende così come ho fatto io, oppure proprio facendo come se dovessi lavare le mani, quindi si esfolia bene tutte le mani, là dove avete delle cellule morte, delle decine, insomma, poi si sciacquano le mani e poi dopo si procede all'utilizzo della crema mani che voi desiderate, ha un odore fantastico e appunto è comunque l'odore dell'arnica perché tutta la linea mani all'arnica comunque ha questo odore e secondo me questo odore è fantastico, io lo amo tantissimo e c'è un'altra crema dell'Aivroche che ha un odore simile, comunque l'arnica è l'ingrediente fondamentale della linea mani dell'Aivroche e lo trovo veramente fantastico e molto delicato, io che ho la pelle molto sensibile, molto delicata, chi sa facilmente, certo voi dite, vabbè, però stiamo parlando delle mani, io penso che anche le mani debbano essere curate in un certo modo, quando va utilizzato questo? non tutti i giorni, due volte a settimana massimo, io personalmente la utilizzo il mercoledì e la domenica e non va utilizzata assolutamente sul viso, proprio perché comunque è un prodotto mani, se avete paura che questa consistenza d'olio gel possa ungere le mani, no, non lo fa perché nel momento in cui l'ha andata a sciacquare, questo olio va via molto facilmente ma vi lascia le mani molto molto idratate, è un prodotto che consiglio a chi ha voglia di prendersi cura delle proprie mani e chi ama esfoliare il proprio corpo e prendersi cura anche dei dettagli, quindi niente, mi andava di parlarvi e di iniziare questo ciclo di video proprio su questo prodotto perché è uno dei miei preferiti e mi andava di farvelo conoscere anche perché molto spesso si conoscono tanti prodotti di live rocher di altre linee ma alcuni che poi sono complementari di linee specifiche non vengono, non sono tanto conosciuti per cui mi andava di farvelo scoprire, niente, se avete curiosità su questo prodotto oppure vi va di chiedermi qualcosa in particolare, sapete lasciatevi un commentino oppure mi contattate spero che questo video vi sia stato utile, vi mando un bacio grande, ciao!